passione made in italy vi aspetta tutti giovedì sera dalle 19 alle 19 e 30 per scoprire quelle che sono le eccellenze che fanno grande il nostro paese perché made in italy è un modo di vivere di creare di pensare che tutto il mondo ci invidia e questo vogliamo scoprirlo insieme a voi grazie